Ci aspetta una battaglia, troveremo sicuramente un campo caldo con una squadra che sta affrontando non un buon periodo e noi cercheremo sicuramente di approfittare di questa cosa. In effetti perché c'è una Vibonese che va a mille ed una casertana costruita per vincere questo campionato che invece sembra camminare con il freno a mano attirato, bisogna approfittare proprio di questo? Sì sicuramente, come dicevo bisogna approfittare di questo momento, noi veniamo da tre vittorie consecutive quindi dobbiamo cercare di dare continuità a questi risultati sperando di fare un risultato positivo lunedì. Senti ma come sarà ritornare in quello stadio da avversario per la prima volta dopo tre anni che sono tanti? Sì sicuramente sarà una bella emozione ritornare là, ho trascorso tre anni bellissimi, con tre anni che abbiamo raggiunto tutti e tre anni playoff quindi sono stati veramente tre anni importanti, sarà sicuramente emozionante. Da Vibo Valencia per la Cineus 24 Grazie per la Cineus 24